Musica Oggi parliamo dell'idraulica della nuova Serie 5 Keyline. Sul trattore abbiamo sempre due pompe, una per lo sterzo e una dedicata a sollevatore e distributore. Quindi anche negli impieghi più pesanti lo sterzo ha sempre l'olio che gli serve. Esatto. Anche se sono in pendenza laterale sto sfalciando? Yes, inoltre hai fino a tre leve per comandare sei vie e uno scarico libero e un regolatore di flusso. Cioè? Cioè puoi destinare una quantità di flusso stabilita e garantita al primo distributore, lasciando il rimanente agli altri. E nel sollevatore cosa mi dici? Che abbiamo un sollevatore posteriore a comando meccanico che solleva fino a 4525 kg. Ma possiamo ordinare un sistema elettroidraulico chiamato Easy Lift molto comodo. Come funziona? Semplicissimo. Con la leva del sollevatore stabilisci la profondità. Poi con un comodo pulsante alzi e abbassi il sollevatore. Un bel aiuto, così non devo tutte le volte trovare manualmente il punto giusto con la leva. Musica 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 Musica